Salve a tutti, questo secondo video tutorial dedicato a Gestotel serve per mostrare come è possibile configurare alcune opzioni varie per il nostro gestionale alberghiero. Innanzitutto vediamo cosa significa questa casella colorata di rosso. Questa è l'update planning, serve per far si che Gestotel aggiorni automaticamente ogni 8 secondi il disegno del nostro planning. Quindi per settare queste opzioni si va nel menu in alto in configurazioni opzioni varie. E qui troviamo appunto delle opzioni relative al nostro planning. Quindi abbiamo la possibilità di visualizzare l'inizio di una prenotazione a metà della casella del giorno. Quindi quando verrà effettuata una prenotazione, la prenotazione partirà da metà giornata. Oppure di visualizzare l'evidenziatore del giorno corrente, che sarebbero queste due linee rosse. Visualizzare la configurazione delle camere nelle prenotazioni. Quindi una volta che si effettua la prenotazione, all'interno della prenotazione verrà visualizzata anche la configurazione della camera. Quindi se si tratta di una camera tripla, singola, doppia, eccetera. Inoltre abbiamo anche la possibilità di mostrare il numero di giorni da visualizzare prima del giorno corrente. In questo caso è impostato un valore di meno 4. E effettivamente vengono mostrati 4 giorni prima della data odierna. Visualizza le prenotazioni spaziate dalle celle. La dimensioni da dare nelle caselle delle camere. In questo caso è stato dato un valore 100. Ma se noi volessimo aumentare questa dimensione, possiamo dare un valore maggiore. E la risoluzione della stampa. Nella sezione varia abbiamo appunto la possibilità di abilitare l'auto update planning. Quindi questo è molto utile quando il nostro gestionale alberghiero è installato in più computer. Quindi in una rete di computer nel nostro albergo. Quindi questo permette infatti di poter aggiornare il planning ogni 10 secondi o impostare un valore differente. Quindi se il nostro gestionale viene contemporaneamente utilizzato da 2 o 3 persone, ovviamente ogni persona ogni 5 secondi ha la possibilità di vedere se qualcun altro ha effettuato una prenotazione per una determinata camera. Inoltre abbiamo la possibilità di abilitare la gestione di nuovi utenti. Se spuntiamo questa casella, gestotella ad ogni avvio controlla se ci sono nuovi aggiornamenti del nostro gestionale. La tipologia del conteggio delle camera mi dà la possibilità di poter definire la tipologia di conteggio delle prenotazioni predefinita. Quindi impostando su listini utilizzeremo prevalentemente prenotazioni con costi che eseguono un listino prezzi stagionale. Dopo negli altri video tutorial vedremo come è possibile creare questi listini prezzi. Mentre con best rate è un prezzamento non a listino ma a prezzo variabili. Per esempio utile per i portali di booking. Qualsiasi delle due scelte non pregiudica la possibilità di fare comunque alcune prenotazioni a listino e altre a best rate oppure con pacchetti speciali. La sezione colori planning mi dà la possibilità di poter assegnare dei colori differenti per esempio per quanto riguarda delle nuove prenotazioni oppure delle prenotazioni confermate oppure degli utenti che noi abbiamo in casa quindi ai quali è stato effettuato il check in oppure per gli utenti a cui è stato effettuato il check out quindi che sono ormai usciti dalla nostra struttura. Il testo delle prenotazioni e altri colori per esempio lo sfondo del planning assegnare un colore bianco o la selezione di un periodo e la prenotazione figlia attiva. La stampa, qui in stampa possiamo per esempio selezionare un logo di stampa delle nostre prenotazioni quindi possiamo assegnare il logo del nostro albergo e abilitare altre funzionalità che poi vedremo nel corso degli altri video tutorial. Qui in questa casella viene mostrato l'utente con il quale con cui si è effettuato l'accesso al nostro gestionale alberghiero. In questo caso noi prevalentemente siamo un utente amministratore quindi root sta per amministratore del gestionale alberghiero ma se noi possiamo anche cambiare quindi selezionare un nuovo utente o creare nuovi utenti quindi assegnare un nome all'utente e i privilegi. Capo sta per root amministratore del gestionale alberghiero quindi ha la possibilità di effettuare qualsiasi operazione nel gestionale alberghiero. Schiavo può effettuare le normali operazioni legate alle prenotazioni ma non può per esempio impostare i listini i servizi e altre configurazioni. Utente in sola lettura può soltanto visualizzare le prenotazioni e altri dati quindi per esempio noi possiamo creare un utente pippo e assegnare dei privilegi di sola lettura. Diamo una password e salviamo il nostro utente. In questo caso vediamo gli utenti che possono utilizzare gestotelle sono l'amministrazione quindi con dei privilegi massimi da capo e l'utente pippo che ha dei privilegi di sola lettura. Questo significa che se per esempio l'accesso viene fatto con quest'utente pippo che ha dei privilegi di sola lettura ad esempio l'utente se cerca di effettuare un'operazione di prenotazione di una camera questa operazione non è consentita da quel livello quindi apparirà una finestra per l'emissione di una password di livello sufficiente per effettuare l'operazione di prenotazione.